Definirli artisti popolari suona un po' come uno simoro, perché molto spesso il vero artista resta incomprensibile al grande pubblico. Eppure la definizione calza a pennello per il genio, duo conosciuto grazie al celebre brano Pop Porno, osannato da Simona Ventura ma anche coppia capace di un'arte intimistica, profonda e romantica. Gianluca Di Rubertis ed Alessandra Contini si sono esibiti live al Parco della Conoscenza di Centobuchi, proponendo brani italiani con qualche sprazzo di francese, un tono retro, elegante, raffinato, con evidenti richiami alla produzione di Serge Gainsbourg. Prendendo spunto dalla canzone d'autore francese e dalle suggestioni del Japan Pop, il genio ha stupito per il suo elegante pop elettronico dalle movenze minimali. Successo dunque per la prima tappa del festival Cose Pop, organizzato dalla consulta spazio disponibile di Monteprandone, guidata dal consigliere Federico Ara Grande e dalla referente Barbara Di Cesare. E lunedì sarà la volta dei Di Maggio Connection, che dal Summer Jamboree scalderanno Piazza dell'Aquila a Monteprandone con il loro inconfondibile Rockabilly Style.